L'esponente del Partito Radicale Rita Bernardini ha concluso questo pomeriggio una visita nel carcere del Coroneo a Trieste. All'uscita ha incontrato i giornalisti e ha tracciato un quadro della situazione nel penitenziario. Il servizio di Alessandra Zigaina. E il Tribunale di Sorveglianza è il problema più grave evidenziato dall'ex deputata radicale Rita Bernardini al termine della sua visita di quattro ore al carcere del Coroneo di Trieste, seguita a quelle di Vicenza e Verona. I detenuti si lamentavano tutti e devo dire che forse è ancora più grave che in altre situazioni perché si respingono tutte le istanze dei detenuti, quelle per la detenzione domiciliare, ma persino i permessi. Pensate su 198 detenuti sono solamente 5 i detenuti che usufruiscono di permessi premio. Bernardini parla del Coroneo come di una realtà bene amministrata dove però servirebbe un direttore a tempo pieno mentre ora Silvia Della Branca ha la responsabilità anche del penitenziario di massima sicurezza di Tolmezzo e a Trieste può stare soltanto due giorni alla settimana. Altro problema è l'assistenza psicologica ai detenuti. Per il medico incaricato sono previste solo 30 ore al mese. Ad oggi i reclusi sono 194, 178 uomini e 16 donne, 108 sono stranieri, più della metà, 35 tossicodipendenti, 6 casi psichiatrici gravi. Rispetto a quanto previsto dalla pianta organica mancano una trentina di agenti penitenziari, pochi i detenuti che lavorano, sono solo 28 e tra questi solo 5 fanno lavori all'esterno del carcere. La situazione però, ha detto Rita Bernardini, è destinata a migliorare poiché la finanziaria ha previsto degli stanziamenti ad hoc. Tra poco sarà inoltre attivato un corso finanziato dalla Regione per l'edilizia, ma non si sa ancora quanti detenuti ne potranno beneficiare.